Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca e partendo da Palermo, dove la polizia ha tratto in arresto un trentenne per coltivazione di marijuana. Gli agenti hanno trovato circa 200 piante all'interno di un edificio. Vediamo il servizio. La polizia di Stato ha arrestato un trentenne per produzione di sostanza stupefacente. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Brancaccio in transito per le vie cittadine hanno avvertito un forte odore provenire dalle abitazioni di una palazzina. A seguito degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione domiciliare al primo piano ed è stato rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana coltivata in modalità indoor. Gli accertamenti hanno consentito di giungere all'individuazione di un soggetto già noto alle forze dell'ordine per reati della stessa specie. L'attività investigativa ha consentito il sequestro di 197 piante di varia altezza per circa 96 kg, oltre al sequestro del materiale utile alla produzione come lampade alogene, filtri, condizionatori, ventilatori e concimante. Nel contesto delle operazioni è stato accertato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica in relazione al quale personale di Enel Distribuzione ha provveduto al distacco. L'uomo è stato tratto in arresto per produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. All'esito dell'udienza di convalida l'arresto è stato convalidato e sono stati applicati gli arresti domiciliari. Restiamo nel palermitano ma cambiamo decisamente argomento. I medici del Policlinico di Palermo sono riusciti a salvare due dita della mano al dodicenne di Carini che ha raccolto un petardo per strada, poi esploso. Abbiamo eseguito un intervento delicatissimo, ha spiegato il primario di chirurgia plastica dell'ospedale policlinico. L'arto, ha aggiunto, era devastato dall'esplosione. Siamo riusciti a ricostruire e salvare il Pollice e il Mignolo. Le altre dita purtroppo sono compromesse. Sulla vicenda ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Carini. Lasciamo Palermo, ci spostiamo adesso a Siracusa dove i carabinieri hanno invece effettuato due arresti durante la notte di Capodanno. Si tratta di due soggetti sorpresi a rubare all'interno di automobili posteggiate. Tutti i dettagli nel servizio. Nella notte di Capodanno, i carabinieri del nucleo radiomobile di Siracusa, in via Elorina, nei pressi di un locale dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il nuovo anno, hanno tratto in arresto per furto su autovetture un 32enne originario di Avola e un 44enne di Siracusa, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. I due soggetti sono stati sorpresi mentre rompevano con delle pietre i finestrini delle auto posteggiate nei pressi dell'attività di intrattenimento e trafugavano soldi e oggetti. La refurtiva, costituita da borse, portafogli, occhiali da sole, cappotti e soldi, è stata restituita ai proprietari dei mezzi avvisati dai carabinieri intervenuti. I due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato e danneggiamento e sottoposti agli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ed ora andiamo a vedere tutti i dettagli dell'omicidio avvenuto a Vittoria. Nel Ragusano un trentenne tunisino è stato ucciso a colpi di spranghe da tre giovani rumeni, due tra l'altro minorenni, i quali lo hanno aggredito e assassinato soltanto poiché aveva pronunciato qualche parola di troppo all'indirizzo di una ragazza. Il servizio. Sono stati fermati dai carabinieri i tre presunti responsabili dell'omicidio del trentenne tunisino ucciso a sprangate all'alba di Capodanno mentre usciva dalla discoteca La Dolce Vita di Vittoria, nel Ragusano. Sono due minorenni e un maggiorenne che ha compiuto 18 anni solo da qualche mese. Nell'auto di quest'ultimo sono state trovate due spranghe di ferro e un coltello a serramanico utilizzati per l'aggressione. I tre giovani rumeni sono stati individuati anche grazie ad alcune testimonianze, poi il ritrovamento delle armi ha consentito di chiudere il cerchio delle indagini. Sono stati condotti in caserma e interrogati dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo che ha coordinato le indagini. Alla fine il ragazzo più grande ha ammesso le proprie responsabilità. Il delitto è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino al termine di una festa per brindare al nuovo anno. La Dolce Vita è un abituale luogo di ritrovo di immigrati che lavorano nelle serre della vasta zona agricola tra Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina. A causare l'aggressione sarebbe stata qualche frase di troppo che la vittima avrebbe rivolto a una ragazza rumena. Da qui la reazione dei tre che lo hanno ucciso e che ora si trovano in carcere a Ragusa. Le comunità tunisina e rumena sono le più numerose nella zona e da sempre i rapporti sono molto tesi e caratterizzati da una forte conflittualità. Da Ragusa a Paternò, nel Catanese, dove un 35enne è stato invece arrestato dai carabinieri, era evaso dai domiciliari e si era recato presso l'abitazione della madre, ma è stata la stessa donna a contattare i militari dell'arma. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno tratto in arresto un pregiudicato 35enne del posto per il reato di evasione. Al riguardo, i militari dell'arma sono intervenuti in via Alcide De Gasperi dopo che una donna aveva chiamato il 112 denunciando che il figlio era evaso dagli arresti domiciliari e si trovava in quel momento presso la sua abitazione. Immediatamente giunto sul posto, l'equipaggio ha effettivamente accertato la presenza presso la casa materna del 35enne, il quale era sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica assistita per tossicodipendenti del Paternese, a seguito del suo arresto per il reato di estorsione. Nella circostanza, l'uomo, senza alcuna autorizzazione, ritenendo di non essere più nelle condizioni di scontare la pena presso il centro di recupero, aveva autonomamente deciso di trasferirsi e proseguire la misura cautelare presso l'appartamento della mamma che timorosa per possibili comportamenti violenti del figlio aveva chiamato i carabinieri. L'individuo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo per lui l'accompagnamento presso il medesimo centro di recupero in ossequi all'originario provvedimento restrittivo. Controlli dei carabinieri a Catania, controlli tra l'altro intensificati in questo periodo di festività, sono scattate anche stavolta diverse sanzioni. Tutti i dettagli nel servizio. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di pattugliamento disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini, sia residenti che turisti, durante le festività connesse al nuovo anno, i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante e del XII Reggimento Sicilia hanno effettuato numerosi posti di controllo nel centro storico della città, in particolare nella zona del Castello Orsino e di Piazza della Repubblica. Durante tale servizio gli operanti hanno identificato oltre 70 soggetti ed effettuato accertamenti su più di 40 veicoli, elevando sanzioni amministrative in violazione delle norme del Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 6.000 euro. In particolare, per quanto concerne le condotte più gravi, sono state sequestrate amministrativamente tre autovetture poiché prive di polizza assicurativa ed è stata ritirata una patente per l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Nel medesimo contesto operativo, i militari dell'arma hanno inoltre sanzionato amministrativamente un 36enne pregiudicato impegnato in una fiorente attività di parcheggiatore abusivo in piazza Federico di Svevia. Allo stesso, infatti, sono stati sequestrati 150 euro frutto dei pagamenti dei conducenti. Sono state poi svolte alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, all'esito della quale i carabinieri hanno segnalato alla locale prefettura un 25enne catanese trovato in possesso di 5 grammi di marijuana. L'incolumità e la sicurezza degli utenti della strada di ogni età costituiscono per l'arma dei carabinieri una stringente priorità. In tale ottica sono stati potenziati anche i controlli sulle vie e le arterie a maggiore percorrenza durante i quali il nucleo radiomobile di Catania, reparto dedicato al pronto intervento cittadino, attraverso i propri equipaggi sul campo ha operato un giro di vite contro la guida in stato di ebrezza, fenomeno di particolare rilevanza soprattutto in questo periodo di festa, durante il quale le gazzelle e i motociclisti dell'arma hanno multato oltre 4 conducenti, i quali, sottoposti ad accertamenti per la misurazione del quantitativo di alcol nel sangue mediante l'alcol test, hanno mostrato valori superiori al limite consentito dalla legge. Pertanto i militari hanno elevato nei loro confronti sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2.000 euro e contestualmente hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida per la successiva sospensione e al sequestro dei loro autoveicoli. Non sono fortunatamente mancati episodi dai quali è emersa la finalità educativa dell'attività contravvenzionale. In particolare, in un'occasione, in Piazza dei Martiri, i militari della sezione motociclisti del nucleo radiomobile hanno fermato un 25enne alla guida di un'auto nuova di zecca che procedeva a fari spenti e con andatura irregolare e che pertanto manifestava durante la guida evidenti sintomi riconducibili allo stato di ebrezza. Nella circostanza, durante il controllo, in un primo momento il giovane si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante l'etilometro. Tuttavia, gli operanti lo hanno sensibilizzato più volte sul fatto che coloro che si rifiutano di sottoporsi agli accertamenti predisposti dalle forze dell'ordine rischiano di essere puniti con il massimo della sanzione e che dunque valeva la pena sottoporsi agli accertamenti ed eventualmente dimostrare che il tasso alcolemico effettivamente riportato non era poi così alto da corrispondere ai sintomi manifestati. Pertanto il giovane, opportunamente sensibilizzato dagli operanti, ha chiesto loro il tempo necessario di consultare dal suo smartphone la normativa prevista in materia e dopo aver riscontrato che effettivamente il Consiglio dei militari corrispondeva a quanto previsto e che dunque era stato dispensato nel suo esclusivo interesse ha consentito a sottoporsi alla prova dell'etilometro che ha comunque fornito un valore elevato e tale da renderlo passibile di contravvenzione. L'attività contravvenzionale condotta dai militari è stata quindi soprattutto orientata a sensibilizzare adulti e giovanissimi sulle gravi conseguenze, a volte anche fatali, che questo comportamento irresponsabile può comportare per la propria e altrui incolumità. Parliamo adesso di terremoti con la terra che continua a tremare in Sicilia e due nuove scosse di terremoto sono state registrate proprio questa mattina nella provincia di Messina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Entrambe le scosse si sono verificate in mare. Il primo sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato alle 3.55 nella zona delle Isole Eolie, a una profondità di 231 chilometri, sisma che non è stato avvertito dalla popolazione isolana. Il secondo, invece, di magnitudo 2.2, è stato registrato alle 4.35 sulla costa siciliana nord-orientale, a una profondità invece di 120 chilometri. Cambiamo ancora argomento, adesso una notizia di cronaca che arriva da Ragusa, dove una donna di 81 anni, residente a Marina di Ragusa, è colpita da un infarto e deceduta all'interno di un'ambulanza del 118, mentre stava per essere trasportata in ospedale a Modica. Secondo quanto denunciato dai familiari dell'81enne, il servizio di emergenza non avrebbe valutato bene la gravità della situazione, inviando sul posto un mezzo di soccorso non idoneo. L'ambulanza, infatti, era priva di medico e infermiere. A bordo c'era soltanto il personale soccorritore e non sarebbe stata applicata nessuna pratica alla donna, che poi è deceduta durante il tragitto in ospedale. Ed ora nell'Agrigentino, per la precisione a Palma di Montechiaro, dove sono state piazzate una bomba e un cartello riportante una croce e la scritta BOOM davanti all'ingresso di un hotel residence alla periferia di Palma di Montechiaro, come detto nell'Agrigentino. Dopo la scoperta, il proprietario ha subito contattato i carabinieri, mentre sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno ovviamente messo in sicurezza l'area, eliminando ogni pericolo. I militari dell'arma, dopo aver informato la procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile o ai responsabili di quello che sembra a tutti gli effetti un atto intimidatorio. Nell'area non ci sono impianti di videosorveglianza e questo certamente rende maggiormente complicato il lavoro dei carabinieri. Ed ora invece parliamo di migranti. Ci siamo lasciati alle spalle il 2022 e quindi è tempo di bilanci anche su questo fronte. Quelli che vi forniamo sono i dati aggiornati del Viminale, che parlano di oltre 100.000 migranti, per la precisione 104.061, che sono sbarcati in Italia nel 2022. Il 28 dicembre scorso in particolare è stato il giorno del mese di dicembre con più arrivi 939, mentre il mese con il maggior numero di sbarchi è stato quello di agosto con ben 16.822 arrivi. Dunque numeri davvero enormi. Pensate che nel 2021 i migranti erano stati poco più di 67.000, 34.000 invece nel 2020, nel 2022 come detto oltre 104.000. E con questa notizia ci fermiamo, possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia.